Buonasera a tutti, buonasera direttore, grazie per l'invito, saluto ovviamente gli editori, il presidente del senato La Russa, il sindaco di Roma Gualtieri, lo ringrazio per le sue parole, ovviamente tutte le autorità presenti, signori e signori, buonasera e tanti auguri. Buonasera, grazie, grazie davvero, io volevo iniziare l'intervista da un'altra parte, però visto che siamo in un luogo di cultura, mi viene in mente il ministro della cultura dove succede un po' di tutto, allora fuori dentro e fuori dolore cos'è successo? Lei ha incontrato il ministro, c'è stata questa dimissione, che succede? Guardi io non ho incontrato il ministro e le confesso che ho anche capito abbastanza poco della vicenda dall'inizio, tendenzialmente non me ne sono occupata, chiaramente insomma seguo quello che si legge e esce sui giornali, ricordo che quando insomma si parlava della nomina di questa persona vice segretario generale, poi segretario generale del ministero c'è stata anche la polemica, anche da Fratelli d'Italia mi dissero guarda c'è del nervosismo per questa nomina, io ho detto parlatene col ministro perché penso al di là di tutto che ciascun ministro debba scegliere le persone con cui lavora essendo dovendosi assumere le responsabilità del lavoro che fa, poi in queste ultime ore ho letto qualcosa di quello che è uscito sulle agenzie perché davvero non ho seguito la vicenda e non ho parlato con Alessandro Giuli né quando ha nominato questa persona né quando Spano si è dimesso, apprendo da quello che leggo sulle agenzie che ci sarebbe, una sorta di una specie di conflitto, un presunto conflitto di interessi tra l'attuale appunto di missionario capo di gabinetto, chiedo scusa non segretario generale, capo di gabinetto del ministro della cultura e un'altra persona che risale al maxi, risale ai tempi da quello che ho capito della gestione di Giovanna Melandri, nessuna di queste persone è stata nominata da Alessandro Giuli e quindi sono nel senso bene ma credo che si debba chiedere conto a chi governava il maxi quando questo è accaduto perché la cosa che un po' mi stupisce di tutta questa vicenda è perché esca adesso, cioè nel senso si sapeva ma non si è detto e lo diciamo adesso, oppure perché quando le persone cominciano a lavorare con questo governo diventa tutto più complicato, diventa tutto più complicato se lavori con quelli di destra e se lavori con quelli di sinistra sia chiaro che puoi fare qualità, questo è tutto quello che ho imparato della vicenda, poi magari si saprà altro e quando si saprà altro le saprò dire ma insomma davvero ho altro di cui occuparmi, confesso. E' una sensazione devo dire che ho provato anch'io alcune volte ripetendo cose che avevo detto nel momento in cui vengono collocate da un'altra parte che non sia la sinistra succedono delle cose che in altri momenti non succedono. Guardi io ho visto in questi anni persone che sono state banalmente linciate dopo che erano anche persone insomma che in certi mondi erano state portate appunto di riferimento o sannate per aver semplicemente detto ma io non sono d'accordo con le idee di Giorgia Meloni ma mi piacerebbe parlarci per provarla a convincere, gente che è stata linciata per aver detto semplicemente questo in questo mondo un po' in cui le cose stanno sfuggendo di mano e nel quale c'è ovviamente un evidente utilizzo di due pesi e due misure come mi pare riguardi questo caso ma insomma ripeto se è una questione come mi pare di capire poi se c'è altro ce lo diranno che afferisce la gestione del maxi da parte di Giovanna Melandri penso che il report debba andare da Giovanna Melandri insomma questo farei io ecco ecco è una settimana in cui un tema in maniera molto forte ha invaso il dibattito politico la polemica politica parte da una mail tra l'altro pubblicata dal tempo negli scorsi giorni che lei ha ripostato una mail che racconta che c'è un giudice in Italia che l'ha definita più pericolosa di Silvio Berlusconi per un motivo particolare perché lei non ha indagini non ha inchieste e quindi in qualche modo è forte il riferimento era alla riforma della giustizia io le chiedo è scoppiato un putiferio su questa mail su questa giustamente perché il tema della giustizia è un tema importantissimo c'è un disegno per sovvertire questo governo c'è un pezzo della magistratura a cui non piace che Giorgia Meloni governi l'Italia? Allora guardi direttore intanto le voglio esprimere la mia solidarietà perché so che per aver pubblicato questa mail che era stata inviata da un magistrato a 500 persone qualcuno ha presentato un esposto anche questo fa un po' specie no? Fa un po' specie che gli stessi che sostengono che sia perfettamente giusto e lecito infiltrarsi nei partiti politici per fare delle presunte inchieste con il tagliacuci e che dicono che è perfettamente normale che le chat private delle persone vengano pubblicate sui giornali se poi viene pubblicata una mail che è stata mandata a 500 persone allora si chiede l'intervento del tribunale anche questo è l'utilizzo dei due pesi e delle due misure dei quali parlavamo poc'anzi che secondo me ha messo oggettivamente in difficoltà la diciamo così onestà intellettuale di alcune personalità dopodiché sulla questione guardi io non parlerei di complotto voglio dirlo anche perché le poche volte che leggo i giornali leggo sempre di questa Giorgia Meloni complottista ho mai parlato di complotti addirittura c'è gente che fa le interviste per dire non l'ho fatto io il complotto che fa un po' sorridere no? Poi ho capito che le fanno soprattutto per far credere che contano qualcosa per me sono tutte dinamiche abbastanza bizzarre non credo che ci sia un disegno di sovvertire la volontà popolare credo che ci sia da parte di alcuni un sostanziale menefreghismo rispetto alla volontà popolare cioè come a dire se il popolo vota bene e vota come noi crediamo che debba votare allora la democrazia è una grande risorsa ma se il popolo non capisce e non vota come dovrebbe votare allora andranno corrette in qualche maniera le scelte del popolo sulla mail del magistrato guardi io l'ho pubblicata perché dice due cose ho pubblicato questa frase perché dice due cose vere dice che io non agisco per interesse personale ma per visione politica lo confermo dice che questo è un problema dice che questo è un problema ma io lo so è quello che ho detto in questi anni cioè ritengo che in questa nazione una politica forte una politica che non ha scheletri nell'armadio una politica che non ha una seconda agenda che non è condizionata da interessi personali e che quindi diciamo così non è condizionabile è un problema per molti è un problema per tutti quelli che sulla debolezza della politica hanno costruito degli imperi quindi ne sono consapevole l'ho detto da tempo ma credo che il ruolo della politica sia esattamente quello che io sto cercando di esercitare e cioè rispondere nel rispetto delle regole alla volontà popolare e diciamo non farmi condizionare da nessuno rispetto a quello che io ritengo sia giusto nel rispetto delle regole per dare risposta ai cittadini quindi sono tutte cose che io conoscevo già non mi spaventano dovrebbero fare riflettere e dovrebbero fare riflettere molti ma penso che siano una buona notizia per i cittadini che governo sapere che c'è una persona che non si fa condizionare perché non ha scheletri nell'armadio e non rincorre interessi personali ma gli interessi dei cittadini secondo quella che è la sua visione credo che la politica questo debba fare questa questa mail si collegava a un dibattito che in realtà non doveva centrare molto col tema della magistratura politicizzata perché si legava al dibattito su una sentenza che riguarda gli immigrati riguarda il modello italia albania che lei ha realizzato e che ha avuto questa battuta del resto proprio a causa di una sentenza emessa da un magistrato su cui anche pende l'accusa di fare parte di quella parte della magistratura che avrebbe da molto tempo in qualche modo anticipato la sua linea di visione di pensiero su questo di fatto l'europa stava guardando a questo modello sta guardando a questo modello abbiamo avuto proprio se visto non l'ha avuto la fronte dell'air a molti paesi d'europa dicono l'italia ha fatto una cosa nuova finalmente dopo molti anni e questo lo dico perché lo penso profondamente in cui si è fatto un gran caos sul tema delle migrazioni in questo paese invece qui la magistratura la ferma le chiedo si riesce da questa contrapposizione da questa diciamo interruzione il governo è intervenuto e come ne usciamo guardi intanto secondo me su questo tema non dovrebbe esserci una contrapposizione né io cerco su questo tema una contrapposizione io penso che nessuno stato di diritto possa prescindere dal governo dei flussi migratori e possa prescindere da una lotta all'immigrazione illegale per moltissime ragioni che non elencherò perché faremo le nove di sera e il presidente la russa c'ha la partita e già me l'ha fatto notare perché la russa quando c'è la partita diciamo non guarda in faccia a nessuno ma una delle quali è banalmente che l'immigrazione illegale è nemica soprattutto della migrazione legale cioè noi per anni in italia abbiamo dovuto limitare i flussi d'ingresso di chi rispettando le regole vorreva entrare in territorio italiano perché avevamo troppi immigrati clandestini quindi abbiamo detto in buona sostanza al mondo che se tu volevi entrare in italia lo potevi fare ma dovevi pagare dei trafficanti di esseri umani e delle organizzazioni criminali che avrebbero fatto la selezione di ingresso in italia io non penso che questo sia uno stato di diritto e penso che su questo anche la magistratura sia d'accordo con me dopodiché io ho detto e ripeto che la sentenza alla quale lei si riferisce è una sentenza che considero assolutamente irragionevole che considero assolutamente irragionevole perché in buona sostanza quello non riguarda il tema dell'albania attenzione poi arrivo all'albania non riguarda il tema dell'albania la sentenza che viene fatta adesso da questi giudici riguarda tutti gli immigrati illegali che arrivano in italia da alcune nazioni sia che arrivino in albania sia che vengano in italia parliamo segnatamente di due nazioni bangladesh vado a memoria centosettanta rotti milioni di abitanti egitto 104 circa vado sempre a memoria milioni di abitanti parliamo complessivamente di 280 milioni di potenziali persone alle quali noi stiamo dicendo venite venite liberamente non c'è assolutamente niente che noi possiamo fare per impedire che voi veniate illegalmente in italia a me pare abbastanza irragionevole e insomma abbastanza come posso dire incapacitante per la politica migratoria che qualsiasi stato di diritto e qualsiasi paese deve fare attenzione i giudici si rifanno a una sentenza della della corte europea nel caso specifico del quale parliamo ma io le devo dire che le non convalide dei trattenimenti dei migranti irregolari sono cominciate da molto prima cioè noi dal decreto cutro che cerchiamo di risolvere questo problema per cui ci sono dei migranti che arrivano da paesi sicuri che per i quali chiediamo il trattenimento ai fini del rimpatrio il trattenimento non ci viene convalidato quindi la questione dell'albania è strumentale la questione riguarda complessivamente la possibilità per noi di governare i flussi migratori io penso che per questo la sentenza sia irragionevole e che sia anche diciamo dettata da un approccio eh divisione ecco molto diverso da quello che ha il governo perché la sentenza è intervenuta adesso ma la non convalida dei trattenimenti ce l'avevamo da prima e perché uno dei giudici che hanno emesso questa sentenza aveva pubblicamente dichiarato la propria contrarietà al protocollo Italia Albania l'Albania e qui arriviamo a un altro punto nella sentenza viene richiamata più volte ma è totalmente irrilevante ripeto se quei migranti fossero stati fossero rimasti a Lampedusa e portati in un qualsiasi centro di trattenimento in Italia noi avremmo avuto lo stesso risultato perché l'Albania viene richiamata con questa costanza perché il protocollo Italia e Albania è oggettivamente un progetto che può cambiare il tema della gestione dei flussi migratori questo lo capiscono tutti lo capiscono i paesi europei che ci stanno sostenendo ricordo che il tema di approfondire diciamo nuove soluzioni per la gestione del tema dell'immigrazione illegale è nelle conclusioni dell'ultimo consiglio europeo ricordo che c'è una lettera firmata da oltre 14 membri del consiglio europeo alla commissione europea che dice approfondiamo esploriamo prendiamo in considerazione l'ipotesi di replicare questo modello è ovvio che come chi vuole gestire fermare l'immigrazione illegale capisce che quello può essere una chiave di volta in positivo chi non la vuole fermare capisce che quella può essere una chiave di volta in negativo io l'avevo messo in conto io avevo messo in conto che questo progetto avrebbe dovuto superare molti ostacoli però le dico una cosa Cerno li supererà il protocollo Italia Albania funzionerà io non intendo da questo punto di vista consentire che è una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto internazionale nel pieno rispetto del diritto europeo nel pieno rispetto del diritto italiano di gestire l'immigrazione illegale venga smontato semplicemente perché in questo caso parlo della politica e non della magistratura venga smontato semplicemente perché c'è una parte della politica che non è d'accordo con questa lettura di come si debba gestire l'immigrazione io mi sono assunta una responsabilità col popolo italiano che è quello di affrontare e risolvere il problema dell'immigrazione illegale e devo essere messa nella condizione di fare il mio lavoro poi se ci sono delle sentenze o delle iniziative che prende la magistratura come è stato in questo caso convochiamo il consiglio dei ministri e cerchiamo di risolvere e continueremo a convocare il consiglio dei ministri a cercare di risolvere perché penso che sia nel nostro diritto nel momento in cui sono gli italiani che ci giudicano essere messi anche nella condizione di lavorare per dare risposte a quegli italiani che ci devono giudicare perché non si può dire tutti assumi la responsabilità di risolvere o di non risolvere i problemi ma sia chiaro che poi gli strumenti per risolvere i problemi non ne puoi avere questa è l'unica cosa che non si può fare quindi io sono determinata ad andare avanti sono convinta della bontà di questo progetto penso che molte cose che sento dire anche dalla sinistra italiana e dalla sinistra anche europea imbeccata da quella italiana su questo progetto siano totalmente insensate oggi c'era una parlamentare non lo so credo spagnola socialista che diceva al Parlamento europeo è una violazione del diritto internazionale in Albania viene applicato il diritto europeo c'è quindi se non rispetta i diritti umani temo che si debba rivedere il diritto europeo signori altrimenti ditemi di che cosa stiamo parlando cioè sono tesi oggettivamente surreali ma insomma sappiamo sapevamo che avremmo diciamo avuto questo confronto e voglio semplicemente lavorare io voglio essere messa nella condizione di lavorare nel rispetto delle regole che è quello che ho fatto dall'inizio ma mi sono presa degli mi sono presa degli impegni con il popolo italiano secondo quella che è la volontà della maggioranza degli italiani e farò tutto quello che posso compreso se necessario lavorare giorno e notte ma darò quelle risposte agli italiani è il compleanno del tempo scusi però una cosa mi sono dimenticata di dire una cosa mi segno delle frasi per ricordarmi sono rimasta molto colpita dalla richiesta che i parlamentari europei del partito democratico hanno fatto alla commissione europea di aprire una procedura di infrazione contro l'italia per il protocollo italia albania mi corre l'obbligo di ricordare a questi parlamentari della repubblica della della parlamentari europei rappresentanti degli italiani che il protocollo italia albania è stato approvato dal parlamento della repubblica italiana mi corre l'obbligo di ricordare a queste persone che non è esattamente normale che dei rappresentanti degli italiani vadano in europa a chiedere che l'italia venga punita perché adesso le spiego come funziona una procedura di infrazione perché uno direbbe vabbè il governo no quando tu fai una procedura di infrazione quando l'europa fa una procedura di infrazione se viene condannata viene condannata a pagare ci sono stati condannati per procedure di infrazioni che pagano anche un milione di euro al giorno per le infrazioni aperte dalla commissione europea quindi quello che ci stanno dicendo mi dispiace ma è quello che penso è quello che dico quello che stanno chiedendo i parlamentari europei del partito democratico è di punire gli italiani per non aver votato come volevano loro e io penso che questo sia al di là di qualsiasi dialettica interna è più danno erariale questo quindi che non quello che hanno contestato il danno erariale da quelli dei banchi a rotelle anche no guardi il danno erariale da quelli del super bonus anche no diciamo che se qua vogliamo aprire le procedure per il danno erariale vediamo che qualcun altro si debba preoccupare molto più di me perché l'abbiamo visti come sono stati utilizzati i soldi in questi anni è il compleanno del tempo 80 anni ma è anche il compleanno del suo governo che ne compie due di anni e quindi auguri anche al governo e quindi le chiedo semplicemente se ci fa un bilancio quello che lei si è fatta di questi due anni di governo di questa esperienza e se ci dice una cosa che non rifarebbe forse non mi ricandiderei sto scherzando non lo so no io di solito le cose quando non le faccio insomma le cose che non rifarei e quindi non me ne viene in mente nessuna poi chiaramente ci sono degli errori di valutazione che possono aver fatto ci sono delle cose che sono riuscite meglio delle cose che sono riuscite peggio insomma nella vita quando fai sbagli e quando non fai che non sbagli però voglio dire adesso non so se lei mi chiede un bilancio politico o un bilancio personale personale allora il bilancio personale il bilancio personale è che sono in pace con la mia coscienza e la mia coscienza è una ragazza molto aggressiva un po' pesante perché non avrei potuto lavorare di più non avrei potuto metterci più entusiasmo più passione più dedizione più sacrificio io ho capito quasi subito diciamo che i diritti di Giorgia e i doveri del presidente del consiglio erano sostanzialmente incompatibili quindi le rinunce sono state tante penso che ne valga la pena che ne sia valsa la pena perché il grande insegnamento di questi due anni secondo me e non è un insegnamento solo per me credo che debba essere un insegnamento per tutti è che questa nazione può veramente ancora stupire questa nazione può veramente ancora indicare la rotta questa nazione può ancora risalire le classifiche questa nazione può riprendersi il suo spazio nel mondo forse siamo noi che alla fine non ci crediamo abbastanza perché poi non è che noi abbiamo fatto miracoli e non avremmo potuto farne però oggi vediamo un'Italia che rispetto al racconto che ci siamo fatti che eravamo sempre il fanalino di coda che eravamo gli ultimi che non funziona niente oggi qualche soddisfazione ce la siamo presa lo vediamo sui dati economici lo vediamo sulla centralità internazionale lo vediamo anche su questi dibattiti a livello internazionale su quello che fa l'Italia lo vediamo sui dati sull'occupazione lo vediamo sullo spread lo vediamo sulla borsa ci sarebbe da raccontare tantissimi dati gliene racconto uno solo ieri ultima emissione di BTP sul mercato noi abbiamo offerto 13 miliardi di euro sono arrivate richieste per oltre 200 miliardi di euro sapete che significa? è il valore della credibilità del nostro sistema non è il valore della credibilità del governo sicuramente il governo ci mette la stabilità che è fondamentale la capacità di indicare la rotta ma è la credibilità del nostro sistema allora delle volte ho l'impressione che da fuori dall'estero ci vedano più solidi più credibili più capaci più straordinari di quanto non riusciamo a vederci noi allora il grande insegnamento per me di questi due anni è se noi smettiamo di flagellarci dalla mattina alla sera e di sottolineare sempre solo anche tra di noi quello che non va quello che potremmo migliorare fermo restando che dobbiamo migliorare un sacco di cose e ricominciamo a credere un po' in chi siamo nel ruolo che abbiamo nel mondo e cominciamo a vederci un po' come ci vedono da fuori beh davvero a questa nazione io penso che nessun obiettivo sia davvero precluso però ci dobbiamo credere noi il governo ci crede il tessuto produttivo ci sta credendo perché buona parte dei risultati che noi raggiungiamo non li dobbiamo al governo li dobbiamo alla capacità la forza la creatività la determinazione del nostro tessuto produttivo ma davvero dobbiamo tornare a un sano orgoglio di essere italiani di quello che rappresentiamo di quello che la nostra nazione rappresenta nella civiltà di quello che rappresenta anche nell'attuale contesto e di quanto ancora possiamo stupire a 360 gradi le faccio una domanda sulla manovra che il governo sta per varare perché negli ultimi anni ma direi più che anni manovra è un momento in cui nella situazione di crisi economica generale nella situazione il debito pubblico tutto quello che sappiamo dà sempre l'impressione di essere pericolosissima da fare per un governo tanti anni fa la manovra erano tutti contenti diamo qui diamo lì adesso quindi poi però quando il governo la racconta sembra una cosa poi quell'opposizione dice tutto il contrario avete abbassato le tasse non le hanno alzate il 100 medio non il 100 medio allora le chiedo dica francamente insomma la possono criticare per tante cose però insomma non per questa è franca dice le cose come le pensa allora dica agli italiani perché i più deboli e il famoso 100 medio che poi è medio basso diciamo ormai perché quelli che guadagnano quello che era il 100 medio oggi non sono medi cominciano a fare un po' di fatica guadagna qualcosa da questa finanziaria che si inserisce nel suo progetto che lei ha detto dall'inizio dovrà durare 5 anni per vedere cosa riusciamo a fare ma va in questa direzione guardi allora noi abbiamo fatto una manovra che diciamo ricalca il lavoro che abbiamo già fatto con le precedenti due perché noi in due anni di governo abbiamo approvato già tre manovre di bilancio perché siamo arrivati e appena arrivati all'inizio del nostro governo abbiamo varato la prima manovra e la strategia è sempre la stessa punto primo noi siamo in una situazione non facile economicamente quindi le risorse a disposizione sono poche la scelta è quella di concentrare le poche risorse che abbiamo su alcune grandi priorità che abbiamo previsto all'inizio e che sono sempre quelle una di queste priorità è sostenere il lavoro sostenere i salari quindi le famiglie particolarmente i redditi medio-bassi ma non solo i redditi medio-bassi e rafforzare il loro potere d'acquisto la terza priorità la terza priorità è la famiglia non solo chiaramente per una questione di visione ma anche per un fatto di incentivo alla natalità che è anch'esso un tema economico l'ho detto tante volte noi viviamo in una società nella quale continuiamo a invecchiare se va avanti così noi possiamo parlare di welfare quanto vogliamo possiamo parlare di pensioni quanto vogliamo ma noi avremo una situazione sempre meno sostenibile e quindi bisogna secondo me aiutare rafforzare le famiglie che mettono al mondo dei figli in ultimo la salute dei cittadini e poi arriviamo anche alla sanità che cosa fa questa manovra nello specifico si concentra su queste priorità adesso le dico il grosso dei provvedimenti lo fa senza aumentare le tasse perché questo è un fatto che le tasse non vengono aumentate lo fa anche questo molto importante mantenendo i conti in ordine quindi non sperperando risorse che non sono nostre ecco cerchiamo di fare questo lavoro che cosa prevede la manovra a grandi linee noi confermiamo tutti i provvedimenti dello scorso anno con alcuni miglioramenti su quelli che erano i nostri provvedimenti principali cuneo contributivo lei ricorderà quindi andiamo alla risposta alla domanda nel concreto lei ricorderà che noi abbiamo abbattuto di 6 barra 7 punti il cuneo contributivo dei lavoratori che avevano un reddito fino a 35.000 euro quest'anno la prima diciamo rimostranza che ci è stata fatta al tempo particolarmente dai sindacati era che questa misura non era una misura strutturale noi con questa manovra l'abbiamo resa strutturale il cuneo passa da contributivo a fiscale quindi non è più un cuneo contributivo ma è un cuneo fiscale e si allarga fino alla platea dei lavoratori con un reddito che arriva a 40.000 euro con un decalage perché c'era nella precedente versione effettivamente uno scalone diciamo così che era un po' discriminante quindi rendiamo strutturale il cuneo fiscale in questo caso per i lavoratori che secondo me è un grande impegno perché questa è una misura che costa miliardi e miliardi di euro dopodiché rendiamo strutturale anche l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF che è sempre una misura esatto che diciamo è una delle prime misure della realizzazione della riforma fiscale chiaramente ad avere più soldi e è la sfida secondo me dal prossimo anno in poi di diciamo lavorare sugli scaglioni più alti dove diventa chiaramente più significativo anche per il ceto medio rendiamo strutturale la super deduzione del costo del lavoro al 120% per chi assume nuovi lavoratori un po' insomma i dati sull'occupazione sono figli anche secondo me di questi segnali sulla famiglia avevamo cominciato con il tema del congeto parentale no? lei ricorderà il primo anno noi abbiamo aggiunto un mese di congeto parentale retribuito all'80% il secondo anno abbiamo aggiunto un secondo mese di congeto parentale tra quelli che oggi vengono retribuiti al 30% al 60% poi diventato all'80% questo anno aggiungiamo un terzo mese di congeto parentale retribuito all'80% perché? perché anche lì noi abbiamo concentrato molte risorse sulle madri lavoratrici questa è una scelta di visione Cerno io penso che sia diciamo la più grande battaglia di cosiddette pari opportunità che vuoi fare perché se una donna ancora deve scegliere nel 2024 tra poter mettere al mondo un figlio e poter avere un posto di lavoro poter inseguire la propria carriera è lì che non c'è la libertà è lì che tu devi garantire la libertà e lo fai dando degli strumenti tant'è che un altro provvedimento sulla famiglia quest'anno è quello di istituire un fondo con il quale vogliamo allargare la decontribuzione che avevamo messo in campo per le donne lavoratrici con due o più figli anche alle lavoratrici autonome perché lo avevamo fatto solo per i lavoratori dipendenti dopodiché abbiamo introdotto un contributo di mille euro alla nascita di tutti i nuovi bambini e lo abbiamo coperto togliendo la detrazione per i figli a carico sopra i 30 anni perché anche questa è la misura che nel nostro ordinamento è sembrata un po' cioè sono risorse che piuttosto vale la pena di spendere sui nuovi nati dopodiché l'altra grande questione è come dicevamo la sanità ora qui vabbè adesso io però ci approfitto per fare un po' anche qui un po' di chiarezza ho sentito dire un po' di tutti però ringraziamo un po' di tutto però ringraziamo i numeri dicono che lei avrebbe accolpito la sanità pubblica dicono che io ho tagliato sulla sanità ora siccome i numeri non sono un'opinione e me li sono scritti per essere sicura allora prendiamo a riferimento lo facciamo un'altra volta prendiamo a riferimento il 2019 il 2019 c'era il governo centrosinistra era l'anno prima del covid diciamo che tiriamo fuori gli anni del covid ok quanto c'era sul fondo sanitario nazionale nel 2019 114 miliardi di euro quanto c'è sul fondo sanitario nel 2025 secondo questa manovra 136,5 miliardi di euro ora diciamo se lo chiedo a mia figlia Ginevra forse ce la fa è più alto 114 o è più alto 136 lo so ditemi voi allora calcolatrice alla mano 114,5 136,5 fa 22 miliardi di euro di differenza ok dopodiché lo spieghiamo in maniera ancora più facile quanto spendiamo in Italia per ogni cittadino sulla sanità spesa pro capite che dovrebbe essere il metro di giudizio perché a me fa un po' sorridere questa cosa che si fa in rapporto al PIL cioè in rapporto alla ricchezza va bene si può anche fare in rapporto alla ricchezza ma è ovvio che se tu hai il PIL che sale perché abbiamo fatto un buon lavoro ti diminuisce la percentuale sul PIL ma non vuol dire che ci metti meno soldi mentre se devasti il PIL e non dico niente anche se ci metti meno soldi sembra che ce ne hai messi di più ma insomma è oggettivamente un gioco no? allora vediamo quanto lo Stato italiano spende per ogni cittadino in sanità nel 2019 lo Stato italiano spendeva per ogni cittadino in salute 1919 euro nel 2025 spenderà per ogni cittadino 2317 euro ci sono 398 euro in più a cittadino spesi sulla sanità ora come si possa sostenere la tesi che noi abbiamo tagliato sulla sanità per me rimane un mistero di Fatima però in questa nazione si può sostenere un po' tutto e anche quando ci sono i numeri si sostengono delle tesi bizzarre dopo di che avrei voluto mettere più soldi sulla sanità certo che avrei voluto mettere più soldi sulla sanità avrei voluto mettere più soldi sulle pensioni oggi ho letto un post in cui Giuseppe Conte dice che sulle pensioni minime non abbiamo aumentato abbastanza ma davvero adesso vi racconto perché non abbiamo aumentato abbastanza sulle pensioni minime non abbiamo aumentato abbastanza le pensioni minime non abbiamo messo più soldi come avremmo voluto sulla sanità perché noi abbiamo fatto una manovra da 30 miliardi di euro per il 2025 e nel 2025 abbiamo da pagare 38 miliardi di euro di super bonus che ci ha servito a ristrutturare meno del 4% delle case degli italiani, prevalentemente seconde case. Se noi non avessimo avuto questi 38 miliardi di euro da spendere per il super bonus, di quanto avremmo potuto aumentare le pensioni minime? Vuole che glielo dica, di 20 mila euro per ciascun pensionato minimo. Quindi se i soldi non fossero stati gettati dalla finestra per fare delle cose che non avevano un impatto, che non erano prioritarie, oggi avremmo molte più risorse per fare le cose prioritarie che la sinistra che ha speso i soldi in cose che non erano prioritarie ci chiede oggi di fare ma non ha fatto quando governava. Non so se la frase... Siamo però anche in uno scenario dove si parla di guerra ormai da tanto tempo e tutti i giorni, il Medio Oriente è riesploso in questo conflitto che non sembra avere soluzione. Il governo italiano sostiene Israele ma sostiene anche con molta forza il cessato del fuoco in Libano e a Gaza. Ieri c'è stato anche un incontro in Italia abbastanza importante perché per la prima volta i soggetti che a livello internazionale non si parlano, anzi fanno altro che parlarsi, qui hanno avuto modo di iniziare un dialogo e quindi le chiedo in che modo il governo italiano sta facendo pesare il suo ruolo in questa complicata situazione internazionale perché pensare che sia semplice, che ci sia una soluzione unica, un unico colore vuol dire non essere persone serie e che cosa lei pensa che possa succedere e che sia in qualche modo utile ad arrivare a una migliore gestione della crisi a Gaza. Io penso che l'Italia debba continuare a fare quello che ha fatto finora lavorando chiaramente moltissimo su questo dossier mantenendo un equilibrio, una credibilità che ci viene di fatto riconosciuta da tutti gli attori internazionali, da tutti i protagonisti nella regione. Noi siamo stati al fianco di Israele, siamo stati al fianco del suo diritto di garantire la sua sicurezza e forse anche la sua stessa esistenza perché a distanza di un anno le cose si dimenticano facilmente ma io continuo a essere convinta che l'aggressione di Hamas del 7 ottobre del 2023 fosse chiaramente avesse una strategia, da sempre la strategia del fondamentalismo è quella di isolare Israele e io credo che la strategia fosse proprio quella di costringere Israele a una risposta così aggressiva, così forte da minare la possibilità di normalizzazione che nella regione si stava portando avanti, cioè il vero nemico erano gli accordi di Abramo il vero nemico erano gli accordi che alcuni paesi del Golfo in particolare stavano portando avanti con Israele per normalizzare i rapporti con lo Stato di Israele e quindi dobbiamo ricordarci qual è la strategia che stava alla base di questo attacco anche per capire come dobbiamo muoverci, per questo motivo noi siamo stati ovviamente al fianco di Israele anche se sosteniamo con forza un cessato il fuoco, io lo sostengo particolarmente oggi, penso che con la morte di Sinwar cioè del massimo simbolo della responsabilità degli attacchi del 7 ottobre di Hamas si apra una finestra che Israele deve saper cogliere che deve saper cogliere e sulla quale noi stiamo chiaramente lanciando appelli, parlando, facendo ogni genere di moral suation perché io sono molto preoccupata e non ne ho fatto mistero sia dal rischio di una escalation le cui conseguenze possono essere per noi imprevedibili, immaginabili ma sono anche molto preoccupata per l'isolamento crescente di Israele nel mondo per l'isolamento crescente nella regione, per l'isolamento crescente nelle nostre opinioni pubbliche è come se una parte di quella strategia stesse riuscendo e quindi ovviamente noi stiamo lavorando con tutti i nostri partner, ci lavoriamo quotidianamente secondo me qualche spiraglio potrebbe esserci, continuiamo a lavorarci chiaramente la situazione è una situazione molto complessa, le sa che io sono stata in Libano, in Giordania l'ultima volta la settimana scorsa tenga presente che in Libano c'è attualmente circa un milione di sfollati parliamo di uno sfollato su 5 abitanti in una situazione nella quale già impatta anche la crisi dei profughi siriani in Libano sempre su 5 milioni di abitanti, noi abbiamo un milione di sfollati e un milione e mezzo di profughi siriani è una situazione potenzialmente esplosiva a Gaza la popolazione è allo stremo l'Italia qui è stata impegnata come lei sa dall'inizio come siamo impegnati ovviamente anche sul Libano l'ultima iniziativa è stata quella di Food for Gaza con la quale noi abbiamo portato nella striscia grazie alla collaborazione della Giordania, nazione che ha un ruolo molto strategico in questa fase circa 47 tonnellate di generi alimentari è un lavoro che stiamo continuando a fare però serve a tamponare serve a tamponare e noi continuiamo a fare del nostro meglio poi sulla diplomazia bisogna saper fare di più vediamo, noi abbiamo fatto questa iniziativa ieri con il G7 che ha dato buoni frutti ce ne sarà un'altra che fa la Francia credo domani se non vado errata quindi la comunità internazionale si sta muovendo con i nostri partner ci stiamo muovendo lo facciamo quotidianamente ma la diplomazia è l'unico strumento del quale disponiamo e penso che si debba utilizzare a 360 gradi in questo momento le faccio un'ultima domanda stranamente fra un po' si vota in Italia si vota sostanzialmente ogni mese ogni sei mesi e ci sono le elezioni regionali sono le elezioni regionali io le dico ho sempre avuto l'idea che i cittadini sono molto intelligenti e quindi se votano il sindaco scelgono il sindaco se votano il presidente della regione c'è il presidente della regione se votano per le politiche scelgono diciamo la maggioranza di governo da cui vogliono farsi governare però si dice sempre che le elezioni sono un segnale nazionale quindi le chiedo Liguria e poi Emilia Romagna e Umbria intanto sono o non sono un segnale nazionale e poi ci sono delle situazioni particolari perché Liguria abbiamo una elezione dovuta alle dimissioni di Giovanni Totti dopo l'arresto, i domiciliari e tutta la storia che sappiamo e l'Emilia Romagna che va a votare dopo un anno di disastri ambientali legati ad alluvioni che hanno mostrato una fragilità gigantesca di questo territorio che ruolo avranno queste elezioni per il governo e per il centrodestra? Che cosa lei si aspetta e che cosa lei vuole fare per portarsi a casa queste regioni? Allora guardi intanto andrei per gradi nel senso che intanto si vota domenica e lunedì in Liguria partiamo da qui io sono abbastanza ottimista ma insomma sono anche una persona che non ama diciamo così parlare di queste cose prima è un fatto scaramantico quindi non le dirò niente di più voglio dirle che mi fa ben pensare il fatto che nessuno ne stia parlando del voto in Liguria e quindi diciamo e voglio dirle che voglio ringraziare Marco Bucci per aver accettato questa candidatura che ho considerato vergognosi gli attacchi contro Marco Bucci per essersi candidato nonostante la sua malattia penso che Marco Bucci abbia fatto invece una scelta molto coraggiosa Tommaso perché nessuno di noi sa quanto tempo ha a disposizione questa è la verità la differenza la fa come lo spendi quel tempo e quindi io devo ringraziare Marco Bucci per questa scelta molto bella, molto coraggiosa al servizio della sua comunità voglio dire che cosa farò io noi facciamo sempre un comizio di chiusura della campagna elettorale per queste elezioni regionali che in questo caso faremo con Antonio Tajani e Matteo Salvini venerdì a Genova lo faremo per questa regione lo faremo ovviamente per le altre penso che in Liguria il centrodestra abbia in ogni caso portato a casa dei risultati importanti penso che si possa fare un lavoro ancora migliore per quello che riguarda l'Emilia Romagna vedremo ma io francamente non mescolerei il tema dell'alluvione con il tema elettorale trovo francamente ma l'ho detto in tante occasioni che dividersi su queste questioni non sia una cosa intelligente noi affronteremo purtroppo continueremo ad affrontare queste emergenze dobbiamo insieme cercare delle soluzioni strutturali sia in tema di messa di sicurezza del territorio sia in tema di sostegno alla protezione civile anche lì servono tante risorse, tanto lavoro è un lavoro che si può fare solamente se i livelli istituzionali si mettono insieme ho visto un sacco di polemiche da una parte, dall'altra, da tutte che secondo me non aiutano alla fine che non piacciono neanche ai cittadini quindi una cosa è la ricostruzione e il lavoro di emergenza sentirò anche ho visto un messaggio del sindaco di Bologna che chiamerò tra stasera e domani mattina quindi sono sempre a disposizione e continuiamo a lavorare la campagna elettorale è un'altra cosa anche sulla Emilia Romagna e l'Umbria man mano che si avvicinano ovviamente insomma proporremo la nostra ricetta come alternativa a quella dei nostri avversari ma insomma poi sono sempre gli italiani a decidere è un test, la democrazia è sempre un test per quello che mi riguarda per me quando votano i cittadini il risponso dei cittadini è sacro sia che sia un municipio, un comune, una regione o il governo della nazione non ho questo uso dei due pesi e delle due misure per cui se vinco era un test nazionale se perdo è una regione che non conta niente perché ho sentito anche questo per me quello che dicono i cittadini è sempre importante e lo sto sempre ad ascoltare la ringrazio grazie al Presidente del Consiglio Giorgio Meloni grazie a voi e tanti auguri al tempo grazie ancora 80 anni aspetti aspetti che le diamo un dono un dono è un san pietrino particolare si direbbe a Roma un sercio vero sindaco si direbbe un sercio a Roma ed è un pensiero per questi 80 anni calpestando questi san pietrini si è fatta la storia d'Italia e di Roma e noi l'abbiamo preso a simbolo di questo momento di questa festa e la ringraziamo di essere stata con noi auguri ancora a tutti grazie grazie auguri grazie grazie